Avrete notato già, se avete gli appunti davanti, che stamattina vi voglio dare un'affermazione molto audace. Vi voglio parlare di quello che è il tesoro più sottovalutato al mondo. Sono pienamente convinto che questo sia vero. E vorrei cominciare chiedendoti questo. Hai mai sottovalutato qualcosa? Penso che in qualche modo ci siamo tutti arrivati. Io mi ricordo quando mi dovevo sposare, e non sto parlando di Melody perché non ho sottovalutato Melody, però non è quello il punto che sto per dire se vi state preoccupando. Quando mi sono fidanzato con Melody dovevo comprarmi un abito da cerimonia. E onestamente con i soldi che da missionario singolo avevo non è che mi potevo permettere più di tanto. Però era proprio il periodo dei saldi. Proprio ci siamo fidanzati a dicembre, a fine dicembre, e lei è ripartita per l'America e io con mio padre siamo andati a Perugia per cercare un abito. E tanto bene c'era un posto che aveva abiti da cerimonia a 70 euro, sì. Era il periodo quando finivano le lire e cominciavano gli euro. Però erano a 70 euro questi abiti. E ne ho guardati diversi, c'era una bella selezione, però ce n'era solo uno che era nero. Vabbè, penso che per me volevo sposarmi in un abito nero, chissà con Tentagode prendo questo. E dico la verità, era un abito un po' particolare, era stile coreano, quindi era molto alto. Quindi non tradizionale, io volevo tradizionale, però c'era solo quello, ho preso quello. Sono andato a pagarlo e quando l'ho portato alla commessa, la commessa mi ha guardato un paio di volte. Poi ha detto, aspetta, vado a chiedere, che c'è di stranni questo abito. Poi ho cominciato a vederlo, certo, sì, forse non era lo stile che volevo io, ma era bello. Era un abito abbastanza bello. Quindi è tornata la commessa e mi ha detto, sì, sì, va bene, 70 euro, perfetto. Arrivo a casa e onestamente non avevo guardato troppo nemmeno il prezzo. Sapevo che erano tutti da 70 euro questi. E poi vedo che ogni particolare pezzo dell'indumento aveva un prezzo suo. Erano ancora nelle vecchie lire. Il gilet c'aveva un prezzo, i pantaloni c'avevano un prezzo. Mi sembra che anche la cravatta, che poi non era un gran chiede di cravatta, aveva un prezzo. Alla fine ho fatto i conti e questo al prezzo originale costava 2 milioni di euro. Quindi euro, sì, lire. Esatto, sapevo che lo sbagliavo. Sì, magari. Poi ho guardato il nome, era Versace. Quindi riuscivo a capire come la commessa era un po' sbalordita, che volevano vendere un abito di Versace dal prezzo originale di 2 milioni di lire, o 1000 euro, a 70 euro. Così ho scoperto che avevo sottovalutato questo abito, ma di gran lunga. Mi dico che è l'unico abito di Versace che ho, sicuramente, non ne comprerò altri. Ogni giorno noi viviamo ignari del vero valore di qualcosa che noi abbiamo sotto il nostro naso. Abbiamo qualcosa ora, in questo giorno, che in epoche passate desideravano e non potevano avere. Sapete cos'è? Non ve lo dico subito, preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola, grazie che Tu ci insegni sempre, grazie che abbiamo in Te un grande valore, abbiamo in Te veramente aperti gli occhi per vedere le cose che veramente hanno valore. Apri i nostri occhi e possiamo vedere con occhi nuovi quello che Tu consideri di gran valore, molto più valore di quello che noi forse pensiamo, delle cose che ogni giorno spendiamo i nostri soldi e il nostro tempo. Guidaci, Signore, che Tu possa utilizzare queste mie parole, ma soprattutto il Tuo Spirito possa aprire i nostri occhi, i nostri cuori, per avere delle vite cambiate da Te. In nome di Gesù. Amen. Vogliamo riprendere Primo Pietro, capitolo 1, e il messaggio di oggi è un continuo, è un approfondimento di quello che abbiamo visto finora. Quindi vogliamo rileggere Primo Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 9, che è veramente l'introduzione a quello che noi studieremo stamattina. Primo Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella Sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede e per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle amme. In Efesini 3,5 dice che nelle altre epoche non fu concesso ai figli dei uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui, promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Un altro libro che comincia con la E, Ebrei, Ebrei 11,13, dice tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Cos'è che abbiamo di tanto prezioso e sottovalutato oggi? Più di qualsiasi altra cosa nella nostra vita? La nostra salvezza adempiuta in Gesù Cristo. Io non so il valore che tu davi alla salvezza nel giorno in cui tu hai creduto, ma sicuramente ti assicuro che non eri in grado di capire il suo vero valore. Matteo 13, versetti da 44 a 46, è una parabola che Gesù ci dà per illustrare il regno dei cieli, quindi la salvezza anche. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran valore se ne è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Io avevo quattro anni quando mi sono affidato a Gesù come mio Signore Salvatore e capivo proprio una minima parte di quello che capisco ora, della salvezza, ma capivo abbastanza da mettere la mia fiducia in Lui, mettere la mia fiducia in quello che Gesù ha fatto sulla croce per me. In fondo il messaggio è semplice. Dio è santo e noi siamo peccatori, i peccatori vanno all'inferno, no? La prima cosa. Quindi da una parte siamo Dio santo e noi peccatori. Poi Dio ama i peccatori. Dio ha mandato il suo figlio Gesù per morire al nostro posto sulla croce. E la terza cosa è chi mette la propria fiducia in Cristo come Salvatore e padrone della propria vita è salvato. Viene adottato nella famiglia di Dio e vivrà per sempre con Lui. Non ci vuole una laurea per capire il Vangelo. Non ci vuole una laurea per capire la semplicità di quello che è detto nella Bibbia, per come uno può essere salvato. Penso che a volte confondiamo il fatto che il messaggio sia semplice con l'idea che sia banale o di poco valore. Abbiamo letto 1 Pietro 3,9 che ci introduce al messaggio di stamattina e più indaghiamo sulla nostra salvezza più scopriamo il suo valore inestimabile. Proprio come questo tesoro che è nascosto nel campo sembra troppo bello per essere vero. Forse è anche per questo che molti non ci credono. Non vogliono chiederci. Vogliono fare qualcosa. Io devo fare qualcosa per essere salvato. No, devi mettere la tua fiducia in Cristo. Non puoi essere salvato per qualcosa che tu fai per Dio. Per capire il suo valore oggi guarderemo l'atteggiamento che avevano profeti ed angeli. Sta per cadere la visione della nostra Chiesa. vedremo se cade e ci sarà un bel effetto a seccare il quadro. Ok, adesso non cade più potete guardare me adesso. Grazie. Infatti oggi parleremo di guardare di guardare qualcosa di prezioso qualcosa che i profeti e gli angeli stessi volevano guardare una cosa di così inestimabile così grande che tutte le richieste del mondo non sono da paragonare a quello che noi abbiamo stamattina in Cristo. E allora la domanda che vorremmo rispondere stamattina è che cosa ha di tanto speciale la nostra salvezza. Leggiamo il versetto 10 sono solo tre versetti ma come vedete sicuramente sarà un messaggio lungo. Versetto 10 dice intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche ai profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Il primo punto stamattina è che la nostra salvezza è così preziosa che i profeti desideravano investigarla. Guardate cosa dice il profeta Abba Kuk sicuramente uno dei profeti meno conosciuti della Bibbia Abba Kuk capitolo 2 se siete veloci a sfogliare potete andare a vedere con me sono 4 versetti dall'1 al 4 Abba Kuk dice questo io starò al mio posto di guardia mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta il Signore mi rispose e disse scrivi la visione incidila su tavole perché si possa leggere con facilità perché è una visione per un tempo già fissato essa si affretta verso il suo termine e non mentirà se tarda aspettala poiché certamente verrà e non tarderà egli è pieno d'orgoglio non agisce rettamente ma il giusto per la sua fede vivrà Gesù descrivendo il momento in cui stavano vivendo il momento che stiamo vivendo anche oggi grazie a Gesù alla sua entrata sulla terra ha detto questo ha detto rivolgendosi ai discepoli Luca 10 23-24 disse loro privatamente beati gli occhi che vedono quello che voi vedete perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto e udire quello che voi udite e non l'hanno udito i profeti erano così presi dalla rivelazione di Dio per il futuro che dice proprio in questo testo che indagarono e fecero ricerche quindi potremmo dire una ricerca approfondita di questo tema se volete segnare i vostri appunti cercavano di capire questo messaggio che loro stessi erano chiamati a dare a volte Dio dava loro dei messaggi che loro non potevano capire dovevano solo comunicare portavoci di Dio e loro meditavano su questa promessa e non riuscivano a capire pienamente questo messaggio perché questo messaggio non era per loro come vedremo stamattina ma è per noi la seconda cosa che vediamo in questo breve versetto che è una grazia già destinata l'abbiamo visto in Abacuc una grazia destinata che significa prima di tutto che è una grazia quindi è un dono immeritato se non è immeritato non è un dono se potrebbe dire perché è un salario è un pagamento ma è qualcosa che non meritiamo atti 10 43 dice di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome e poi il versetto più famoso della Bibbia sulla grazia Efesini 2 8 e 9 dice infatti per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti un dono immeritato dice qua ma dice anche che è un piano già perfezionato ecco le parole a voi destinato è un piano che Dio ha già perfezionato per noi primo Tessalonicesi 5 9 dice Dio infatti non ci ha destinati a ira ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo e poi Ebrei 11 40 dice perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi ora che abbiamo visto il valore che i profeti davano alla nostra salvezza al fatto che loro volevano investigare questa salvezza Pietro vuole rispondere a una seconda domanda che è questa cosa volevano sapere di questa salvezza abbiamo capito che erano interessati alla nostra salvezza e alla loro ma cosa volevano sapere leggiamo il versetto 11 essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle il punto numero 2 è questo la nostra salvezza è così preziosa che Cristo ha dato tutto per compierla Efesini 1 da 7 a 10 ci dà una bellissima descrizione di quello che Cristo ha fatto per noi quando dice in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che Egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra questi profeti volevano sapere quando cioè l'epoca e come cioè le circostanze in cui sarebbe avvenuta questa salvezza sicuramente speravano che fosse per la loro epoca atti 3.24 dice tutti i profeti che hanno parlato da Samuele in poi hanno anch'essi annunciato questi giorni i giorni in cui Dio ha mandato suo figlio a morire sulla quella croce in cui Dio si è formato un popolo per sé tramite lo Spirito Santo infatti proprio dello Spirito Santo parla adesso non ci vogliamo confondere qui quando dice lo Spirito di Cristo sta parlando dello Spirito Santo come vedremo infatti lo Spirito di Cristo glielo aveva preannunciato aveva preannunciato quello che sarebbe avvenuto l'ha preannunciato ai profeti e qui nel punto qui sotto dice lo Spirito Santo volevo puntualizzare che quando si parla di Spirito di Cristo si parla di Spirito Santo e guardate come è usato intercambiabilmente diciamo in Romani 8 9 e 10 questi due termini Romani 8 9 e 10 dice questo voi però non siete nella carne ma nello Spirito se lo Spirito di Dio abita veramente in voi se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo egli non appartiene a lui ma se Cristo è in voi nonostante il corpo sia morto a causa del peccato lo Spirito dà vita a causa della giustificazione quindi è molto bello ci sono molti nomi per lo Spirito Santo nella Bibbia il Spirito di Cristo è uno di questi e poi vediamo che in questo testo ci dice che lo Spirito Santo era dove? era in loro secondo Pietro capitolo 1 versetti 19 a 21 è un approfondimento di questo discorso quando dice abbiamo inoltre la parola profetica più salda farete bene a prestare attenzione come una lampara splendente in luogo scuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori sappiate primi di tutto questo che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo questo è uno dei due testi più importanti nella Bibbia sull'ispirazione delle scritture il ruolo che i profeti e gli apostoli avevano nel comunicare a noi non quello che loro volevano ma quello che lo Spirito Santo spingeva loro a comunicare e poi in questo termine in questo nome lo Spirito di Cristo vediamo anche che lo Spirito Santo proviene da Cristo una cosa molto affermata e dibattuta nella Chiesa Primitiva nei primi secoli quando era sotto attacco questo concetto della Trinità il fatto che c'è un solo Dio Padre Figlio e Spirito Santo in tre persone poi vediamo non soltanto che lo Spirito glielo aveva preannunciato ma anche che Cristo lo avrebbe compiuto qui c'è una parola molto bella che mi è sempre rimasta impressa quando Gesù era sulla croce Giovanni 19-30 descrive questo momento dice Gesù ancora indifeso sulla croce ricordati che quello che lui ha fatto è compiuto non si ripete più perché Gesù l'ha fatto per noi su quella croce la parola greca si chiama perfetto perché è una cosa che comincia e continua come Gesù è morto non è morto una volta ma è morto una volta per tutte come dice il termine stesso vediamo prima di tutto in questa sua morte che lui ha sofferto dice in questo testo soffrendo Luca 24 versetto 26 che dice non doveva Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria e proprio questa sofferenza questa sua morte sulla croce ha portato alla sua gloria ed è molto interessante come Pietro usa questa terminologia qua dice ricevendo le glorie non parla di una gloria ma di glorie plurale non è che ha sbagliato perché sta parlando di più di una gloria sta parlando prima di tutto della gloria della risurrezione Luca 24 46 dice così è scritto che Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e poi conoscete tutti i primi corinzi 15 che è la bellissima descrizione della risurrezione non soltanto la gloria della risurrezione ma anche la gloria dell'ascensione a volte quando noi spieghiamo il Vangelo ci dimentichiamo che Gesù non è rimasto sulla terra ma è tornato in cielo questo fa parte del Vangelo come la scrittura ci insegna Luca 24 51 dice mentre lì benediceva si staccò da loro e fu portato su nel cielo ma non soltanto la gloria della risurrezione la gloria dell'ascensione ma anche la gloria dell'incoronazione lo vediamo in primo Pietro 3.22 che lo vedremo tra qualche settimana dice asceso al cielo sta alla destra di Dio dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti vediamo anche in Filippese 2 9 11 dove dice che Dio lo ha sonovanamente innalzato gli ha dato il nome che è lì sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre vediamo l'incoronazione fa parte della gloria di Cristo ora che abbiamo scoperto perché era preziosa è unica questa salvezza Pietro risponde a una terza domanda se non vi è già scoppiato il cervello abbiamo una terza domanda che i profeti si facevano e era questa perché per chi erano destinate queste profezie leggiamo il versetto 12 e fu loro rivelato che non per se stessi cioè per i profeti ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo la nostra salvezza è così preziosa che Dio ha aspettato noi per adempierla ecco perché posso dire viviamo in un tempo che è stato aspettato per tanto tempo ma forse dirai sì ma quello era duemila anni fa che c'entra con oggi ma noi viviamo ogni giorno alla luce di quello che è successo duemila anni fa di quello che Gesù ha fatto noi facciamo parte di questa profezia che i profeti indagavano e amavano vedere e studiare punto numero 3 la nostra salvezza è così preziosa che Dio ha aspettato noi per adempierla proprio come noi aspettiamo delle cose importanti mi ricordo da piccolo noi siamo potremmo dire bambini di terza cultura siamo di cittadinanza americana ma ci sentiamo pienamente italiani però ogni tanto da piccoli ci piaceva che arrivava qualche pacco dall'America dai nonni o da amici e noi avevamo quasi una non so se oso dire questa parola una liturgia una tradizione forse non parla migliore di come noi aprivamo questo pacco nessuno poteva aprire il pacco finché non tornavamo tutti dalla scuola o dai nostri impegni perché c'era il pacco lì in cucina sul tavolo noi tiravamo fuori anche da bambini confesso coltelli per aprire con una precisione chirurgica questo pacco in modo da non rovinare niente ma la cosa che mi colpiva è che noi aspettavamo che tutti arrivassimo per poter aprire questo pacco insieme proprio nel sossomoro che Dio ha aspettato noi ha aspettato questo perfetto momento per adempiere noi viviamo grazie a quello che è successo a Gesù quindi i profeti potevano solo vedere da lontano non servivano a se stessi ma servivano a noi e ora noi viviamo l'adempimento delle promesse date ai profeti quello che loro si sognavano quello che loro desideravano vedere noi lo vediamo cosa vedono vedono il Vangelo adempiuto dagli Apostoli viviamo il Vangelo dato dallo Spirito Santo e vediamo anche il Vangelo mandato da Dio qui nel testo dice inviato dal cielo ma non è che stavo parlando delle nuvole stavo parlando del cielo come trono di Dio quindi la presenza della persona di Dio qui sembrerebbe finito il messaggio ma non è così Pietro conclude il suo discorso stamattina con quello che io considero la ciliegina sulla torta vuoi sapere quanto è preziosa la tua salvezza stamattina? dice alla fine del versetto 12 che gli angeli desiderano ardentemente ammirarla oppure qualcuno traduce brama e qua ho guardato il testo e è la stessa parola per concupiscenza ma in senso buono di avere un desiderio così forte che ti ossessiona gli angeli guardavano questo momento e guardano qui dice proprio al presente gli angeli desiderano ardentemente ammirare potete immaginare questi angeli che dal cielo perché la parola ce lo vuole ce lo presume quest'idea che gli angeli guardano guardano giù con occhi meravigliati ma Dio veramente ha fatto questo per loro la nostra salvezza punto numero 4 è quindi che la nostra salvezza è così preziosa che gli angeli desiderano ardentemente ammirarla c'è un un commentario che ho letto che dice questo lo scrittore J.Ramsey Michaels dice questo il fatto stesso che gli angeli ce l'ho anche sullo schermo eccolo qua il fatto stesso che gli angeli hanno così tante conoscenze accresce il senso di meraviglia alle cose che non sanno ora anche gli angeli a cui i profeti stessi facevano domande stanno cercando di scoprire il mistero del piano della redenzione di Dio gli angeli che veramente sanno molto più di noi sono meravigliati cercano di capire questa salvezza che Dio ha preparato e ha dato a te e a me tuttora non c'è cosa di cui gli angeli preferirebbero parlare riflettere o approfondire se volete sapere di cosa parlano gli angeli quando fanno la loro pausa caffè dal loro lavoro gli angeli parlano della salvezza ma hai visto quello che Dio ha fatto quello che Dio ha fatto per loro come Dio l'ha salvato come lui ha mandato suo figlio come lui stesso è venuto sulla terra per morire per loro per la loro salvezza direi di più direi che tuttora in cielo nessuno si è stufato di sentire parlare di questa salvezza ah voglio parlare ancora della salvezza è pizza che pizza qualche volta noi se non l'abbiamo detto l'abbiamo pensato diciamo la verità ma quello parla sempre della salvezza ma andiamo oltre la salvezza ma cosa c'è di più grande della salvezza di più prezioso di cui parlare della salvezza dirò di più tuttora gli angeli fanno festa ogni volta che un peccatore si ravvede questo ce l'ha detto Gesù in Luca 15-10 dice così vi dico ve gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede ti voglio chiedere questo stamattina quanto è preziosa la tua salvezza quanto è grande quanto è speciale quanto è unica se volessimo riassumere tutto quello che abbiamo visto stamattina potremmo dire che la nostra salvezza è così preziosa che i profeti desideravano investigarla che Cristo ha dato tutto per compierla che Dio ha aspettato noi per adempierla e gli angeli desiderano ardentemente ammirarla forse ti stai chiedendo stamattina perché è importante questo messaggio perché Pietro ne parla in questo libro perché la verità è che noi saremo spesso smarriti dalle circostanze della vita siamo smarriti dalle prove dalle persecuzioni piccole e grandi saremo smarriti dalle preoccupazioni della vita siamo tentati di vivere con indifferenza quella che è l'unica cosa che ci può soddisfare un rapporto con Dio tramite Gesù Cristo voglio dire anche stamattina che questo messaggio è ancora più importante per te se non sei deciso sei ancora indeciso e insicuro di voler credere a quello che Dio promette cosa ti promette ti promette salvezza eterna se ti affidi a Gesù Cristo e ti promette anche un'altra cosa ti promette eterna dannazione se non fai niente atti 4.12 dice questo nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati ti dico stamattina se ancora non hai messo la tua fiducia in Gesù come tuo unico salvatore Signore perché indugiare l'unica garanzia che hai per questa vita è che non hai altre garanzie l'unica garanzia che hai se riconosci il tuo peccato che ti penti e ti affidi a Gesù Cristo come Signore e salvatore nella tua vita questa è l'unica garanzia che hai e questo porterà la tua gioia eterna una gioia inesprimibile un amore incredibile un conforto irrinunciabile un momento irripetibile una salvezza inimitabile primo corinzi 2.9 dice ma come è scritto le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano come posso vivere questo messaggio stamattina invece se sono un credente se sono nato di nuovo a parte questa gioia che dovrebbe uscire da tutti i nostri pori Gesù ha detto questo riguardo alla salvezza nel suo primo messaggio che abbiamo già citato altre volte Matteo 5 versetti da 14 a 16 dice questo voi siete la luce del mondo una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampara per metterla sotto un recipiente anzi la si mette su candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il padre vostro che è nei cieli come vivere questo messaggio prima di tutto ringraziare ogni giorno Dio per il grande privilegio che abbiamo di essere salvati di vivere ogni giorno per quello che conta di più cioè per Cristo per il nostro salvatore di non essere smarriti nelle difficoltà da questo messaggio e di essere una luce nel mondo questo messaggio non può e non deve essere mai nascosto è l'unica vera notizia Romani 16 25 dice a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'eterno Dio a tutte le nazioni perché ubbidiscano alla fede a Dio unico in saggezza per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria di secoli di secoli amén